Ancora Cronaca stava giocando aggrappata ad un grande cancello in ferro quando questo è uscito dalle guide e le è caduto addosso. È successo una bimba ganese di 4 anni che sabato sera si trovava con i genitori a Palazzolo sull'Oglio, presso la comunità evangelica Christ Peace and Love. Schiacciata dal pesante manufatto è stata subito soccorsa e trasportata al vicino ospedale di Chiari. Dopo aver riscontrato un trauma cranico i medici hanno stabilito il trasferimento della piccola al civile di Brescia per ulteriori accertamenti. Qui si trova ora in prognosi riservata ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Quanto al cancello la dinamica e la responsabilità dell'accaduto sono ora al vaglio dei carabinieri di Palazzolo sull'Oglio.